Buongiorno da Lido, allora innanzitutto ringrazio gli amici di Orama Search per la magliettina che mi è arrivata stamattina e di cui sono orgogliosissimo quindi grazie per il regalo che era stato promesso e è stata rispettata e mantenuta questa promessa mandandomi questa magliettina che adoro e diventerà naturalmente la maglietta dell'estate quindi senza ulteriori indugi andare dritto verso le news di oggi ho sognato un paio di cose ma un sacco di cose da dire in realtà quindi cerco di andare spedito perché vorrei fare un aggiornamento sulla situazione Reddit sapete abbiamo parlato un paio di giorni fa le nuove policy sull'API di Reddit che hanno scontentato molti sviluppatori soprattutto di app di terze parti, non solo scontentato ma a quanto pare anche ucciso definitivamente e ne parliamo e in chiusura andiamo a vedere una cosa che riguarda il hybrid work, quindi il lavoro misto ufficio remoto che è tornato agli onori delle cronache per un email di Google e poi qualcosa che ha scatenato la penna, anzi la tastiera di DHH allora vado subito su Reddit perché naturalmente Reddit dopo aver annunciato i cambiamenti dell'API che hanno un impatto negativo sulle app di terze parti, sui client e sugli utenti perché naturalmente prevedono dei costi costi notevoli, costi aggiuntivi oltre alla parte free diciamo di uso di queste API e inoltre regole più restrittive sulla pubblicità e sui contenuti espliciti che non potranno essere prelevate naturalmente hanno ottenuto critiche da parte di sviluppatori e utenti che ritengono queste cose ingiuste quindi non c'è soltanto diciamo Apollo che come abbiamo detto aveva pensato di chiudere e adesso ha annunciato ufficialmente la sua chiusura ma anche altre app e quindi in una nota se voi oggi, se voi in questi giorni avete aperto la app di Apollo Apollo for Reddit che è un'app per iOS avete trovato che lo sviluppatore Christian Selig ha proprio dichiarato che non potrà andare avanti e il 30 giugno l'app cesserà, cesserà di esistere, chiuderà dopodiché altre app hanno seguito questo esempio e hanno annunciato la chiusura per questi stessi motivi tra queste app ci sono Riff is Fun che praticamente è Reddit is Fun era almeno una volta che è un cliente per Android poi altre anche come Red Planet e Sync queste app sono app che hanno una lunga storia, una grande base di utenti e adesso si trovano a dover chiudere il 30 giugno come vedete Reddit ha fatto un'eccezione per le app focalizzate sull'accessibilità quindi esentandole dai costi aggiuntivi delle nuove API questa decisione è stata presa dopo le proteste di sviluppatori utenti che praticamente hanno detto queste app sono essenziali per permettere a persone con disabilità e con bisogni particolari di usare Reddit e quindi tra le app esentate ci sono Dystopia for Reddit che è un'app per persone con dislessia e Voice for Reddit che invece è un'app che legge, legge proprio a voce alta i post e i commenti e poi il CEO di Reddit, Steve Hoffman terrà una EMA, una Ask Me Anything questa sera, questa sera alle 19.30 ora di Roma per rispondere un po' alle critiche per dare un po' di spiegazioni sulle nuove API molti utenti si aspettano delle spiegazioni o delle giustificazioni insomma da parte di Hoffman ma anche forse magari si può sperare a possibili modifiche o ritrattazioni ma insomma nel frattempo alcune delle community più grandi quindi i subreddit più grandi di Reddit hanno annunciato di voler proprio chiudere andare offline per 48 ore in segno di protesta peraltro vorrei andare anche a sottolineare che Reddit ha anche annunciato di voler tagliare circa 90 dipendenti che sarebbe il 5% del suo staff che attualmente è di circa 2000 persone quindi essenzialmente riguardano il settore dei dati, delle API e degli strumenti per i moderatori poi Reddit ha anche ridotto il suo spazio, il suo ufficio a San Francisco quindi si è trasferita da un edificio di 78.000 piedi perché naturalmente si parla di misure americane quindi 78.000 piedi quadrati in San Francisco a uno di 47.000 piedi questa mossa potrebbe essere già stata un segnale della volontà di ridurre il personale dovete tener conto che Reddit aveva presentato alla fine del 2021 la domanda per entrare in borsa poi non ha ancora fatto il suo debutto ma questo dovrebbe essere fatto nella seconda metà di quest'anno e quindi continuando a seguire i soldi perché poi è lì che si deve andare secondo me secondo un po' tutti a indagare su queste decisioni di Reddit sembrano essere i driver principali delle decisioni di Reddit di questi ultimi mesi ecco si sa che Fidelity che è il principale investitore nel round di finanziamento di Reddit del 2021 ha rivisto al ribasso il valore della sua quota da 28,2 milioni di dollari a 16,6 milioni di dollari quindi una riduzione del 41% e quindi insomma tutto qua seguendo diciamo i percorsi della finanza probabilmente si può andare a intuire le motivazioni dietro a questi grossi cambiamenti in corso in Reddit questo quindi era tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti però se stasera alla AMA di Huffman o in questo weekend emergeranno novità direi che ne riparleremo e vorrei chiudere invece la puntata parlando di smart working smart working, remote working, hybrid working insomma le nuove modalità di lavoro di un mondo IT che non sembra volersi adattare in realtà mi invece sembra voler imporre i metodi della volta e quindi l'obbligatorietà della presenza in ufficio l'ultimo è Google che tramite il proprio chief people officer che si chiama Fiona Cicconi ha mandato una mail ai propri dipendenti con questo testo che ora vi leggo tradotto naturalmente dice sappiamo che molte persone sono passate al lavoro completamente remoto per molte buone ragioni mentre ci adattavamo alla pandemia per quelli che sono remoti e che vivono vicino a un ufficio di Google speriamo che consideriate di passare a una modalità di lavoro ibrida i nostri uffici sono il luogo dove sarete più connessi alla comunità di Google in futuro considereremo le nuove richieste di lavoro remoto solo in casi eccezionali poi la mail ricorda anche ai dipendenti che dovrebbero venire in ufficio tre giorni alla settimana se non sono già designati come remoti e che i manager possano tenere conto delle loro assenze nella valutazione delle prestazioni questo è un punto abbastanza delicato nelle performance review i manager potrebbero tener conto del tempo passato in ufficio o di quello passato a caso tra l'altro è una cosa questa molto simile alla mossa già fatta e già comunicata da Meta all'inizio di questo mese e quindi Google si accoda a questa ondata di aziende IT che vogliono forzare almeno una parte dei dipendenti e una parte del tempo in ufficio e però su questo si esprime come di consueto in maniera colorita di HH però in questo caso sono incredibilmente quasi d'accordo con lui almeno nelle premesse poi in realtà non nelle conclusioni non totalmente nelle conclusioni però insomma questo post che vi invito comunque a leggere si chiama Hybrid combines the worst of office and remote work abbastanza esplicativo indicativo però in realtà nel contenuto insomma cerco di riassumerlo per punti ecco dunque in pratica DHH sostiene che il lavoro ibrido è un tentativo dei manager che sono ostili al lavoro remoto di far tornare i dipendenti in ufficio a tempo pieno cioè dico oggi ti dico tre giorni ti do tre giorni in ufficio due giorni in opera poi domani quando le tue resistenze saranno diciamo indebolite ti chiederò i cinque giorni pieni e poi il lavoro ibrido elimina i vantaggi del lavoro remoto come la libertà di scegliere dove vivere e lavorare perché naturalmente di comunque stare a distanza pendolare dall'ufficio sappiamo che in ufficio ci sono anche molte interruzioni quindi ti tolgo anche questi benefici ma compromette anche i benefici del lavoro in ufficio perché naturalmente se vai in ufficio comunque metà della gente è a casa e devi stare in call quindi hai anche perdi anche i benefici della collaborazione in tempo reale a condivisione delle informazioni se una parte del tuo team è remota e una parte no quindi insomma in conclusione dice ibrido è una cosa insoddisfacente che non dovrebbe essere fatta cioè o fai 100% remoto o fai 100% ufficio creando insomma il migliore ambiente possibile in entrambi questi casi ecco su questa conclusione io pur condividendo le premesse cioè secondo me è vero i difetti che DHH trova in questa modalità ibrida sono reali, tangibili però io penso che non l'obbligo ma la possibilità la possibilità di incontrarsi con i colleghi in ufficio ogni tanto pur lavorando a casa o dove si vuole insomma nei periodi di concentrazione ecco è una soluzione che mi piace non è perfetta anzi certamente andrebbe investigato un modo per migliorare il possibile però ecco cercherei di combinare il meglio dei due mondi non il peggio come dice DHH peggio che naturalmente avviene in molte situazioni quindi capisco l'avversione per questa modalità però ritengo anche che se noi ci focalizziamo sui fattori positivi dell'essere in ufficio e i fattori positivi dell'essere in remoto dell'essere a casa o dove si vuole secondo me si può si può trovare una modalità ibrida che faccia emergere invece una bella situazione per tutti però naturalmente è una mia considerazione che è data anche del mio contesto della mia situazione capisco certe avversioni totali specialmente in mercati diversi come quello americano e molto più vasti naturalmente territori molto più vasti rispetto a quello italiano e insomma però vi invito comunque a leggere questo post di DHH e magari dirmi anche la vostra dimmi cosa ne pensate come state lavorando remoto hybrid o quel che sia e dirmi un po' come va come va e cosa ne pensate quindi era anche tutto per questo buongiornissimo il buongiornissimo di oggi quindi vi ringrazio per avermi seguito fino in qui grazie ancora a Orama per la magliettina che comunque mi serve perché ho bisogno di questi tessuti leggeri perché c'è molto caldo e quindi grazie direi che vi auguro un buon fine settimana fate i bravi non andate troppo veloce e mangiate verdure e fibre ci vediamo la settimana prossima ciao grazie a tutti